La filosofia può guardare fino agli estremi confini del tutto, perché se, attraversando la varietà smisurata delle cose, non si lascia distrarre e catturare da nessuna di esse, tuttavia essa vede che ogni cosa, per quanto diversa dalle altre, ha in comune con ogni altra il suo essere una abitatrice del tutto. Le cose non sono, cioè, soltanto diverse tra loro, ma anche identiche. Ognuna è una abitatrice del tutto, qualcosa che si mantiene, sia pure in modi diversi, all'interno del tutto. Emanuele Severino